buongiorno cari amici di youtube, io e zini siamo in viaggio, in missione segreta no non è vero stavo scherzando stiamo andando da Ikea ragazzi siamo quasi arrivati dopo due ore e trenta minuti di lungo interminabile viaggio siamo quasi arrivati all'Ikea siamo lontanissimi, troppo lontani, per favore aprite un'Ikea a Palermo Ikea se mi senti apri a Palermo siamo arrivati, siamo arrivati, dopo due ore e mezza di viaggio siamo arrivati, yuppie yuppie siamo da Ikea e un finto bar e stiamo guardando questi tavolini che sono veramente fantastici e sono carini e niente vi abbiamo pensato e vi facciamo un saluto qui da Ikea è arrivato il momento del pranzo, quindi siamo stati all'angolo dell'offetto e già abbiamo preso la super mega offerta della giornata che volevamo siamo tanto tanto felici e vi facciamo vedere cosa abbiamo preso per il pranzo di oggi le famose polpette Ikea con patatine fritte e le varie salsine e poi come antipasto prosciutto frudo e mozzarella il pranzo anche a voi è buono il patatino che è bellissimo spiamo questo angolo di casa guardate che carino ragazze questo è il mio angolo preferito con questo super mega divano comodoso fantastico ragazze è super mega fantastico comodo io qui mi parei tipo non lo so un riposino pomeriggiano di non so quante ore è troppo troppo bello questo divane che è nooo guardate che meraviglia Siri cosa ci cucini stasera? una bella carbonara le padella sono qua pronte vediamo se troviamo i coperchi ecco ci sono altri tesi perfetti questo specchio lo voglio è super mega fantastico guardate che carina questa cucina wow ciao amici no ma ne vogliamo parlare di questa qui che bella ogni volta che noi veniamo all'Ikea a Gioni piace tantissimo questa stanzetta guardate che carina tutta rosa col lettino questo è il corridoio il bagnetto un amore e la camera da letto no ragazze ne vogliamo parlare di questo specchio super gigantesco Siri questo lo prendiamo vero? eh sì ma lo metto nello sportello a sinistra amiche universitarie e lavoratrici guardate che carina questa cucina 4,79 con l'offerta di 99 euro il trasporto è montabile devo dire che è wow super comoda e non abbiamo finito guardate extra spazio anche lì anche questo devo dire che non è male sentchgo meno ане ogni male 8 e 49 grazie mi piace tantissimo troppo carino ha un costo un po esagerato 1.950 rispetto alle altre però niente troppo troppo bella il frigo gigantesco c'è extra spazio per mettere qualsiasi cosa il solito sistema comodissimo fai vedere siri tira fuori niente geniale troppo troppo bella allora ragazze il nostro giro all'idea è finito il carrello è super mega pieno di rob e adesso è ora di tornare a casa ecco siri che fa il lavoro